Allora ragazze, salve a tutte, questa volta un video un po' diverso perché infatti io in passato ho fatto dei video su Instagram dove vi faccio vedere come sceglievo i prodotti e molti di voi mi hanno detto di farci un video su YouTube, quindi ora andremo a vedere i prodotti che mi servono, che devo portare a casa e vi faccio vedere come li scegliono. Allora ragazze, io ho questa lista da seguire e man mano andrò a cancellare quello che mi serve, quindi procediamo con il primo prodotto che è la crema contro il sole per mio figlio che però non è arrivata, vi dicevo allora, non è arrivata quindi niente, andiamo avanti, detergente intimo. Allora di detergenti intimi ce ne sono di diversi tipi, io ho terminato questo delle erbe di Janas, questo qui, e quindi andrò in realtà a prendermi quello di, eccolo qui, della saponaria con bardana e calendula. Sui fondotinta vado tranquilla perché sono arrivati oggi e ancora devo finire di metterli apposta, però volevo prendere appunto di nuovo l'Urbana, il foundation compatto nella colorazione 102, quindi vado a prendere questo e lo vado a mettere nella busta. Anche sulle maschere posso scegliere tranquillamente tra le novità, come vedete queste sono quelle di Puro Bio, io ovviamente devo prendermi quelle per pelli secche e posso scegliere tra tre profumazioni che è appunto uva, mandorla e banana e queste sono in crema e poi ci sono anche quelle in alginato che invece hanno altri tipi di profumazione. Credo che mi andrò a prendere quella, la mandorla, perché la uso in trattamento e so che è buonissima. Sulle spugnette, zero dubbi, vado direttamente a prendere quelle di cose della natura per bambini. Diciamo che qui la scelta è molto ardua, perché ci sono tantissimi prodotti disponibili, però credo che andrò su questa qui, che è la mousse. Io credo che andrò sulla mousse detergente di Jada, perché è anche struccante per gli occhi, anche se credo che prenderò anche un bifasico. E sul bifasico vado tranquilla sull'acqua shake di Defa, che devo dire è stato un mio grandissimo, grandissimo, grandissimo amore. Finisco nel reparto detergente per prendere anche il gel detergente micellare, questo è quello scrabbante e ovviamente lo vado a prendere, perché anche questo è un prodotto favoloso. Ragazzi, poi vi parlerò di tutte queste novità. L'ultimo prodotto che mi manca è il sapone e potete andare o su questo qui appunto di Puro Bio che già ho utilizzato, oppure ce ne sono anche altri e credo che andrò a cambiare, perché io adoro variare i miei prodotti. Finisco con Madara, lo Smart Glow, questo è un prodotto molto interessante perché in realtà potete utilizzarlo anche per il corpo, però visto che io ho le mani anche un po' secche in questo periodo, forse per lo sbalzo di temperatura, voglio una cosa idratante che mi aiuti poi a far assorbire ulteriormente la mia crema e quindi vado con questo. Questo fa parte di un'edizione limitata invernale. Con questo credo di aver finito, ora andiamo a vedere la mia bustina. Direi che il mio bottino è praticamente portato a compimento, quindi acquisti fatti, in realtà ci sono tantissime novità molto molto interessanti, ma quelle ve le farò vedere dopo. Fatemi sapere se questo acquisti sul posto vi può piacere, in caso spolliciate e iscrivetevi al canale. Ciao ragazze!